Guardi, non la voglio mettere così. Io ho detto e ripeto, l'ho detto in Parlamento tre giorni fa, l'unica cosa che io non posso fare è dare il mio ok a un patto che non io, ma nessun governo italiano potrebbe rispettare. Perché sarebbe ingiusto, perché non sarebbe utile per noi. Dopodiché ho letto, addirittura Mario Monti dice mettete il veto. Ma insomma diciamo che se la mettiamo così non è un buon modo di cercare delle sintesi con gli altri. Cerchiamo di ottenere un patto che ci offra le condizioni di fare seriamente il nostro lavoro. Perché ho detto e ribadisco che noi non chiediamo una modifica del patto per gettare i soldi dalla finestra, però chiediamo una modifica del patto che ci consenta di fare quello che riteniamo giusto fare, è che l'Europa sia data come strategia, parlo particolarmente degli investimenti, senza essere per questo colpiti. Perché sarebbe una strategia miope, ma non per l'Italia, ma per l'Europa che sia data quelle strategie. E chiaramente su questo cerchiamo di coinvolgere più paesi possibili.